Allora ragazzi sto guardando questo video perchè voglio avvertire che ci saranno live streaming su Twitch di Don'tServe Per la prima volta lo giocherò in live stream Bene ragazzi, siete puntuali, alle 5 e mezzo, mancano 7 minuti, non siete sbaglio Allora riesco a... si, quasi 6 minuti mancano, quindi si va a dire subito la voce Bene, ciao ragazzi, questo è un annuncio molto importante, ciao ciao